Campus Party è una rete neurale espansa, è una fantastica occasione con cui espandere la propria immaginazione, la propria intelligenza e il proprio entusiasmo. È un modo per conoscere persone da tanti settori, per essere esposti a mille idee e per far volare la propria capacità di avere un impatto positivo verso il mondo. Grazie a tutti.